musica cazzo è uno l'avevo fatto l'altro è andato mi prende sono anche davanti sono a terra raga sono a terra morto un no sono per terra ti dico si sta arrivando è scappa 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 ah ma è proprio accanto a te ah si questo qui di te io prendilo prendilo distrutto preso opponentemente mi sa che muore io so sto cercando andarli non ho fatto in tempo no no aspetta vengo più vicino ci vuole arrivare no no mi sta sparando vai via vai via ma ce la facciamo ma niente fa niente no ma hanno distrutto con tutte e due lì dentro però c'è sono proprio distrutti non sto cercando entrare dove sono eh uno l'ho fatto ma l'altro no eccolo eccolo occhio dietro di noi raga eh porco davanti e questo è qui eh è sopra il tetto sopra il tetto l'ho visto l'ho visto appena si ferma eh io non ho bisogno libero eh te lo dico eh io c'ho il cecchino ma appena si ferma è dall'altra parte eh se si fermasse non è inserita neanche lui l'ho visto uno l'ho fatto io sono morto arriva mi davano volto due due gli uccisi due li uccisi 247 è lì è lì davanti proprio dove ho pingato sono dentro nella casetta gialla raga arrivo io faccio il giro io vado a destra dai eccolo eccolo preso timo ci sei? si si ci sono ci sono sto cercando uno tipo che era qua no ma no 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 due due ne ho fatti due a caso vero dove sono io sono eh raga verso là dove stavamo sparando prima ucciso uno ok la corratta è andata ucciso ucciso secondo ucciso secondo scappate oh che gente no cazzo no cazzo di no ucciso eccolo sopra ucciso vieni verso di me vieni verso di me mi auto rianimo mi auto rianimo perfetto 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 non ho munizio ho 49 colpi poi basta vieni vieni se vuoi te li do io ne ho un po' vieni no aspetta vai in safe vai in safe ti lascio eh eccolo preso morto morto e l'altro ucciso